Lui è un 36enne, socio dello stabilimento balneare Le Capanine del lungomare Playa di Catania. E fin qui nessun problema, tranne il fatto che Salvatore Raciti, in alcuni bungalow del Lido, deteneva una bella lista della spesa. Una carabina calibro 5.5 modificata, una pistola con matricola parzialmente a brasa e completa di caricatore contenente 10 cartucce 9x21, altre 37 cartucce, due caricatori vuoti, 11 bossoli, un coltello a scatto, un giubbotto antiproiettile, due macete, uno sfollagente in legno, due taser, un metal detector e anche un tirapugni. E come se non bastasse, sono anche stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania anche diversi bilancini e modiche quantità di marijuana e hashish, 3.000 euro in contanti e due banconote false. Insomma un equipaggiamento da guerra in Vietnam che ha convinto le forze dell'ordine e la procura di Catania di mettere in manette Raciti e di accompagnarlo immediatamente in carcere. L'accusa adesso è di detenzione illegale di armi, munizioni e spaccio di stupefacenti e falsificazione monetaria.